giovani buongiorno a tutti allora più che pillola oggi una piccola bombetta il futuro di quadrato dove sarà alla juventus no di sicuro se ne andrà a parametro zero però vuole giocare la champions quindi niente rabbia niente stati uniti in italia al momento viene accostato per dei motivi che ora vi spiegherò alla lazio quindi per me quadrato lazio si può fare perché perché i motivi comunque di quadrato le motivazioni già le sappiamo dall'altra parte troviamo sarri un suo ex allenatore ha espresso la volontà di voler quadrato nella lazio ovviamente non alla dirigenza ma in un suo parere personale e alla lazio comunque un terzino serve perché pellegrini molto probabilmente in uscita e anche lazari quindi al momento a quota 6 quindi è quasi diciamo un qualcosa di inimmaginabile però noi ci proviamo lo stesso prendiamo l'ora che a quota 6 poi vediamo cosa succede quadrato lazio si può fare quota 6 grazie a tutti grazie a tutti